un po' di soldi qui sotto una dove? una dove? un avviene un mito in moto un avviene un mito vado un avviene un mito vado un avviene un mito vado si non mi sto a... non mi sto a... non mi sto a... quello è a terra, lo vedo sotto il murtai me la nelle scale si, mi piadano un po' di soldi resta, resta, resta Cosa di tutti? Può che ciò, puoi? Cosa di, c'è quello che c'è? Cosa di? Cosa di? Cosa di? Cosa di? Cosa di? Cosa di?